Vino, 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 vino e faccia ancora. Benvenuti a Sommelier, il programma che parla di vino, tecniche di servizio e tutto quanto ruota intorno all'enologia con appuntamenti e interviste. Partiamo dalle cantine Rivera, dove il vino va di pari passo con questa terra che parla di storia. Siamo vicinissimi a Castel del Monte, il magnero federiciano e a due passi da Canne della Battaglia, dove Annibale sconfisse i romani. Rivera, vini pregiati di Puglia. Effettivamente queste cantine hanno segnato una grande svolta nel mondo del vino di Puglia. Incontriamo Sebastiano, qui fra i vigneti, no? Ecco, ben arrivato Rivera. Ciao Sebastiano. Voi di cognome fate decorato, quindi Rivera è il nome della contrada? Sì, il nome della contrada è il nome dell'azienda agricola, si chiamava dall'inizio azienda vinicola delle tenute Rivera. Del nonno, Sebastiano come te. Come me, sì. Poi c'è il papà, con proprietà di questa cantina, e Sebastiano e c'è anche un altro Carlo adesso. Sì, la quarta generazione è poco arrivata, fresca fresca. Il nonno come decide di dedicarsi al vino? C'era nella vecchia masseria, c'era una piccola cantina dove si faceva vino in maniera molto approssimativa, come poi in tante altre realtà della regione. E Veronno decise, perché forse era stato qualche anno a Milano, aveva visto un po' cosa succedeva fuori.